signora grazie no 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 poi dopo magari ci riprendi ma devono mostrare l'intervistatore si dopo alla fine quando fanno il controcampo non può rimanere anonimo no no di nuovo no 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 va bene questa l'unica cosa che le raccomanderei di andare un pochettino più ad agio ecco perché lei parla molto bene italiano ma un pochettino più lentamente e le difficoltà che sono emerse nel pontificato di Giovanni Paolo II? sono le difficoltà del nostro periodo cioè materialismo, agnosticismo, relativismo una vita per il consumo e dall'altra parte la miseria che impedisce l'uomo di vivere realmente secondo la sua alta vocazione quindi i problemi del nostro mondo sono naturalmente anche problemi della chiesa che fa parte del mondo durante il giubileo lei ha fatto soffrire tanti cristiani specie protestanti il documento Dominus Iesus è stato definito fondamentalista lei lo riscriverebbe ancora oggi? sì certo io direi etichettare un documento come fondamentalista in modo di sottrarsi al dialogo dire questo è fondamentalista vuol dire io non parlo con te quindi io non accetto questa etichetta perché non è giusta e devo anche dire che moltissimi direi quasi tutti i protestanti erano grati per la prima parte del documento questa confessione franca, umile e aperta che Cristo è il figlio di Dio e quindi è diverso di tutte le grandi personalità della storia delle religioni qui erano grati che solo la chiesa cattolica aveva la possibilità di parlare con questa voce al mondo su Cristo il secondo punto naturalmente ha fatto difficoltà per i protestanti ma diciamo realisticamente anche riconoscono che è bene che una chiesa possa pensare che in questa chiesa è vivo il soggetto chiesa chiesa non è solo un sogno per domani ma esiste anche con tutte le insufficienze con questo grande problema delle separazioni del resto sempre più i vescovi in visita atlimina ci dicono proprio adesso gli ultimi gruppi dall'India siamo grati per questo documento era necessario perché la chiesa deve proprio oggi indicare francamente e comprensibilmente la sua identità e sono grati sempre più i vescovi che hanno un documento nel quale appare per tutti visibilmente l'identità con la quale poi si può discutere le religioni sono vie ugualmente valide per raggiungere la salvezza sono tutte complementari alla rivelazione dica sì o no la parola complementare non mi piace direi è un problema da riflettere molto più in profondo meraviglia sempre che anche persone che non si interessano per la salvezza eterna anzi pensano sarebbe perdita di tempo parlare della salvezza eterna pensano lavorare per questo ma insistono che tutte le religioni sarebbero vie per la salvezza eterna per una cosa che in realtà ecco questo sono un po' contro no perché non sono identiche si risparmia con queste frasiologie l'impegno di conoscere realmente le religioni e anche persone che ci dicono non dobbiamo essere conservatori tradizionalisti conformisti ci dicono ognuno dovrebbe conformarsi alla sua tradizione e quindi essere conservatori questo non è giusto no? dobbiamo cercare tutti con la nostra coscienza quanto è meglio lei ha dichiarato ciò che mi stupisce non è l'incredulità ma la fede quel che sorprende non è l'agnostico ma il cristiano ne è tuttora convinto? sì perché diciamo il mondo come è ci consiglia l'agnosticismo pensare siamo troppo piccoli la nostra ragione è troppo facile per poter credere in Dio e che tuttavia in questo mondo così frammentato così diciamo oscuro ci sono tanti tanti milioni di persone che credono è realmente un miracolo sarei dire è anche un segno che Dio opera in questo mondo la chiesa deve insegnare l'arte del vivere meglio la strada della felicità secondo lei la chiesa oggi soddisfa veramente la sede di infinito che alberga nel cuore dell'uomo? non sempre non sempre in modo sufficiente ma diciamo è sempre una fonte e se uno si avvicina si accetta anche gli aspetti umani insufficienti può realmente nella chiesa trovare la luce dell'eternità e trovare anche diciamo e sì i segni della felicità è Dio che è silenzioso o è l'uomo che si allontana da Dio? diciamo Dio qualche volta si nasconde come ci dice la Sacra Scrittura proprio anche per invitarci di cercarlo di più con maggiore forza ma è soprattutto anche l'uomo che è occupato con tante cose che diventa quasi sordo e cieco questo è il grande problema noi abbiamo tanti rumori nell'orecchio della nostra anima tante cose negli occhi della nostra anima che siamo quasi ciechi e sordi e dovremmo un po' liberarci avere un po' più di attenzione interiore per poter vedere meglio Cosa c'è che non vada nella liturgia? Lei sta preparando un documento severo e restrittivo è vero o no? Io non preparo niente perché non avrei la competenza il Santo Padre ha incaricato la competente congregazione per il culto divino di elaborare gli aspetti già indicati nel quinto capitolo dell'enciclica il decoro della liturgia cioè di chiarire i punti dove realmente si sbaglia e così oscura anche la bellezza della liturgia Quali sono, secondo il custode della fede cattolica le più pericolose eresie del nostro tempo? Adesso non entrerai in dettagli perché mi sembra il problema centrale è quello sul quale abbiamo già parlato cioè nostra sordità per la voce di Dio e quindi l'agnosticismo come modo di vivere normale e vivere ogni giorno per le cose ovvie per le cose che ci occupano immediatamente e quindi questo modo di dimenticare l'altro mi sembra che questo è il più grande pericolo e così si oscurano le singole cose per me il problema centrale è che Cristo va sempre più ridotto a una persona con grandi esperienze religiose si perde la vera grandezza della figura di Cristo e a questo volevamo rispondere con Dominus Jesus Quale sarà il futuro del cristianesimo? Allora nessuno può osare rispondere a questo ma in ogni caso il Signore ci dice che la Chiesa sarà sempre viva fino alla fine del mondo anche con grandi sofferenze forse anche molto ridotta perché una volta dice se il figlio dell'uomo ritorna troverà ancora fede sulla terra quindi crisi saranno senza dubbio ma dall'altra parte sappiamo che l'uomo è sempre aperto a Dio ha sempre la sete di Dio e Dio si fa sempre presente quindi la Chiesa come anche in passato dovrà subire tante tentazioni sofferenze, persecuzioni ma sarà sempre anche una fonte di vita di gioia e sarà sempre la vera forza di speranza nel mondo Già, quando Cristo tornerà sulla terra troverà ancora la fede? Anche se il Signore parla nell'interrogativo altri testi della scrittura ci dicono si troverà la sua Chiesa e la redimerà e redimerà il mondo Grazie Grazie